Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Capito? Infatti per quello... Uguale l'ho cantato, uguale. Grazie, grazie, grazie. Si è capito, si è capito. Uguale. Qua ci vuole già la clip, lo so già, no? Nel recap della puntata, Ivan che canta in coreano. Oh, babe, babe, babe. Ah? Stasera sono contro tutti. Finisce male stasera. Rissa, rissa. No, no? No, 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 niente, niente. Dove l'ha arrivata? No, a me sono entrate in testa molto velocemente entrando. Forse l'altra grittura di più non me l'aspettavo perché dopo... Ma perché è brutta. Anche le cose brutte ti resta. Se vedi un incidente ti resta impresso. Non è brutta. Però la canzone è un peccato. È un'opportunità mancata, secondo me. Vedi, ha ragione, Dani Loves K-Pop. Questa la canti... Quindi la canti. Suonare il testo proprio. Perché proprio in quel pezzo cambia completamente il testo. È più drammatico. Vedi che ti piace? Ma che... Ma... 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 Preferivo... Preferivo Charlie come ospite. No, no, no. Beh, 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 beh. Beh... Beh, 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 ragazzi. Tagliate questo. Oh, my girl. Done, done dance. Tobi, scritta assolutamente corretta. Perfetto. Perfetto. Non ho idea. No, io non ho idea. Ok. Ok. Let's go. Ma non è... Allora, no. Se volete vi posso cantare una canzone di Twice. Ecco, questa sì. Vai. Eh? Che bravo. Boia boia, no? Aspetta. Ah, diciamo. Le Hive hanno cantato una canzone di San Giovanni. Quindi c'è questo video in cui ci sono loro che cantano una canzone di San Giovanni. Vai. Esatto. Però a quanto pare San Giovanni e in generale, credo, la musica italiana, molti artisti italiani, stanno diventando, tra virgolette, un po' virali in Corea. Sì, è vero. Stanno un po' spopolando. Forse grazie ai Mane Skin hanno aperto... È molto probabile. Però, appunto, metti a confronto con i Mane Skin, la popolarità dei Mane Skin all'estero l'hai percepita molto di più. Certo, certo. Quindi ci sta che le Rolling Quartz facciano la cover dei Mane Skin, perché i Mane Skin li conoscono mai tutti. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì. Sì, vi diamo la buonanotte. Grazie per essere stati con noi anche questo video di riserva. E chiudiamo in bellezza. Sì, no, non mi ha fatto questa cosa. È una... ..è un mato. Iscriviti al nostro canale. Sì, tutto, è giusto.